Scaduti termini per regolarizzare le posizioni dei piccoli alunni alle nuove norme sui vaccini. Abbiamo sentito dirigenti scolastici e il medico dirigente dell'area vaccini dell'ASL BT Giancarlo Cannone. La situazione è ampiamente sotto controllo anche se si segnala qualche resistenza da parte di genitori Novax. Marilena Pastore. Il 10 marzo è scaduto il termine previsto per la regolarizzazione delle certificazioni vaccinali per gli asili nido e le scuole dell'infanzia. Certificazione necessaria per non vedersi escludere il proprio figlio da scuola. Quello che infatti è previsto dalla legge nel caso di non regolarità delle vaccinazioni è la sospensione della frequenza per le scuole materne. Diverso il caso della scuola dell'obbligo. I dirigenti sono alla ricerca di possibili soluzioni che non penalizzino i bambini che comunque hanno il diritto e dovere di istruirsi. Quanti saranno i bambini non vaccinati? Ancora difficile dirlo. Le ASL attendono i dati pressoché definitivi da parte delle scuole che dovranno poi essere esaminati e inviati alla regione. Per quello che concerne la provincia Barletta-Andria-Trani nessun problema risurta esserci per i comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando, Trinitapoli, Spinazzola, Minervino-Murge e Canosa di Puglia. Le città di Andria e Barletta risultano essere nella media. Le sacche di resistenza più alte si registrano a Trani e Biceglie. Circoscrivendo il dato alla comunità scolastica andriese, mentre il direttore generale della ASL, Bat Alessandro Delle Donne, assicura che il programma per le vaccinazioni nel territorio sarà completato in tempi più che acceleri, dalle informazioni raccolte dalle dirigenti scolastiche della città la situazione risulta essere sotto controllo. Questo però non significa assenza di casi. Più nello specifico possiamo dire che gran parte delle situazioni sono state regolarizzate, soprattutto per le autocertificazioni che sono state adeguatamente documentate. Una ventina invece i bambini al di sotto dei sei anni che non risultano vaccinati e le cui famiglie hanno espresso la netta contrarietà, distribuiti negli otto circoli didattici cittadini. Per loro si aprirebbe la strada della sospensione della frequenza della scuola di infanzia. Il condizionale è d'obbligo perché, sebbene la legge sia chiara, è in atto un confronto serrato tra le parti che potrebbe portare anche ai ricorsi al Tar. Nel prossimo servizio la fotografia della situazione di Antria, nelle parole del dottor Giancarlo Cannone, dirigente medico referente dell'area vaccinazione della ASL, Bat. La situazione è che i bambini che frequentano la scuola materna potrebbero vedersi precluso l'accesso alla scuola perché non in regola con la vaccinazione. Ovviamente esistono sia linea di impianti totali alla vaccinazione, bambini che non hanno mai iniziato neanche con la prima vaccinazione, linea di impianti parziali. Queste sono due categorie distinte, ovviamente linea di impianti parziali sono quelli che possono essere sanati a brevissimo tempo perché possono accedere qui al nostro servizio di vaccinazione, sanare la loro posizione quanto prima. La vedo un pochettino dura per linea di impianti totali, quelli renitenti, quelli ideologici che non vogliono vaccinare perché essendo la scuola materna scuola non obbligatoria, loro penso che gli verrà preclusa l'accesso a scuola a meno che non ci siano da parte dell'ufficio regionale delle proroghe a questa scadenza. Su Andria sono una ventina gli inade impianti totali, quelli che non hanno mai vaccinato i propri figli. Un pochettino più corposa quelli degli inade impianti parziali, quelli che hanno iniziato il loro iter vaccinale, non hanno mai concluso per paura, per aver sentito dire che i vaccini possono danneggiare. Occhio anche qualcuno per motivi di salute, di ordine clinico che hanno iniziato la vaccinazione e poi ci sono stati dei problemi di salute del bambino, hanno dimenticato. Però includo anche in questa categoria quelli che hanno smarrito il libretto delle vaccinazioni e quindi lontano dagli occhi, lontano dal cuore, hanno dimenticato di proseguire l'iter vaccinale. Ovviamente l'accesso qui è sempre aperto a tutti quanti, non c'è bisogno di prenotare. Si può venire direttamente qui da noi, nel giro anche della giornata stessa si inizia l'iter delle vaccinazioni e in questo modo i bimbi possono ritornare a scuola tranquillamente con neanche la prenotazione, perché la prenotazione implica un'attesa. Noi anche questo qui riusciamo anche in una certa maniera a glissare questa situazione. Si viene qui, si incomincia la vaccinazione e si ritorna a scuola direttamente, senza alcun trauma. Dottore, siete in contatto con le scuole della città? Sì, siamo in contatto costante perché chiedono a noi anche delle spiegazioni tecniche su cosa fare, su come fare. Però le circolari della regione ci hanno messo in secondo piano perché la responsabilità dell'accettazione o no dei bambini a scuola è ovviamente quella dei dirigenti scolastici. Noi siamo il braccio operativo, nel momento in cui le persone si presentano qui per la vaccinazione li vacciniamo direttamente, non abbiate paura, non abbiate timore. Non ascoltate le miriadi di fesserie, scusate il termine, che vengono dette a riguardo delle vaccinazioni perché nulla è più falso di quello che si sta dicendo in questo momento, di tutto e di più.